Ok ragazzi vai partiamo subito con un altro gameplay di Naruto sempre in compagnia del vostro brado Ok vediamo un po' il riepilogo e poi si va in missione Ok ragazzi vediamo un po' adesso la missione da fare se sarà abbastanza competitiva Corta oppure dove andiamo? Su o giù? Andiamo su ragazzi dai andiamo su dai non c'è problema Iniziamo iniziamo Oh Io voglio combattere con te. Tazuke, vieni! Vieni! Vieni, cosa vuoi? Se vuoi cosa vuoi? Se vuoi cosa vuoi? Vieni, io sono un sacco. Vieni a te. 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 Tu sai tu? Da. Vieni a te. Ll membrane Samara. Vieni a te. Vieni a te. Hoii. Vieni a te. Me say, tu sai tuasi. ok ragazzi tranquilli che non era questo il capitolo diciamo eh adesso adesso si fa si fa il capitolo ora ecco vediamo un po allora nuovo episodio sbloccato ok vabbè dai siamo sui 12 minuti vai iniziamo nemmeno tanto nemmeno tanto vai ci divertiamo ragazzi si comincia si comincia la grande no Se volete il vostro corpo, il vostro corpo è il vostro corpo. Se il vostro corpo, il vostro corpo, il vostro corpo. Se volete il vostro corpo, il vostro corpo è più vero. Quindi... Non potete fare una cosa, Kakashi! Cosa? Il vostro nome di Crozets, non c'è più informazione. Grazie a tutti. 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 Ok ragazzi, che lo scontro abbia inizio e spero di vincere, spero veramente di vincere ragazzi, perché se no qui si mette veramente male. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non scende mai, non scende mai, non scende mai, non scende mai, non scende mai ragazzi, non ci credo. Grazie a tutti. Non riesco a combattere, non riesco a combattere. e non scende mai, ma scende mai, ma che stanno scendere, ma scende mai, ma scendere, ma scende, ma... Ok dai scelgo la mia via Se mi fai scegliere magari eh Vediamo qui Vai potenzio l'attacco si Potenzio l'attacco si Lo voglio potenziare si Questo capitolo non è facile Per me ragazzi io parlo per me Poi magari per voi E' semplice ma per me non lo è Niente non riesco a far nulla eh Non riesco a far nulla Qui contro Madara Oh sto usando il Akashi ora Ora si Il mio Kakashi Il Kakashi mi è sempre piaciuto quindi Ci gioco con grande stile Con grande stile Vai così vai Madara vieni qui ti faccio il culo con Kakashi Con Kakashi ti faccio il culo si Con il mio Kakashi No 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 attenzione attenzione qui Aspetta aspetta Ragazzi non c'è problema Ottimo ho schivato non so come Ho preso le misure Al punto giusto Ottimo così Ottimo bradone Vai distruggiamolo ora Una volta posso perdere Ma due no eh Una volta si Due volte no Ok vai Madara è quasi andato eh Quasi andato dai E insomma Ora si è un po' incazzato Ma per il momento va bene così dai Va benissimo così Tranquilli tranquilli Tutto sotto controllo per il momento Per il momento è tutto sotto controllo Ragazzi Ai 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 Tutto non succede qui Vai cerchio di nuovo Vabbè Lì è semplice da tanto eh Fammi usare Kakashi Ottimo così ottimo Vai ora mi diverto Ora mi diverto Ora mi diverto ragazzi Ora mi diverto Ora mi devo divertire Ottimo così Maremma Ottimo brado Ottimo ottimo Lo distruggo Lo distruggo ragazzi Lo distruggo Mi faccio il culo ora eh Ora mi faccio il culo Vai Stiggin' shiro qui Hai così Dai che andata E' andata E' andata Ottimo Grandissimo Attacco di brado ora Ok Saluto Madara Ragazzi Ho perso una volta Ma ci può stare Grado B Ci può stare anche il grado B Perché ho perso Quindi Ci può stare benissimo Oh Gai 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 E... ...dia... ...dia... ...tadrì... ok ragazzi si conclude il capitolo quindi si conclude anche il gameplay è stato un gameplay veramente bello purtroppo ho perso una volta ma ci può stare ci può stare senza problemi ogni tanto si può perdere fa parte del gioco perdere ragazzi quindi è così nuovo episodio sbloccato il prossimo siamo sempre sui 12 minuti ma comunque il gameplay si conclude qui e non farò un altro episodio su questo gameplay ragazzi quindi appuntamento con i prossimi gameplay vi saluto ecco vi saluto con la schermata della modalità storia no con la schermata principale perché mi piace molto mi mette allegria un saluto a tutti al vostro Diabotex appuntamento con i prossimi gameplay di Naruto e anche altri giochi ciao a tutti ragazzacci alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti